e buongiorno ragazzi benvenuti su talkabout io sono saga e in questo video parleremo di pepe pepe è la nuova meme coin che diciamo è la coin del momento ne parleremo perché con questa coin possiamo farci davvero tantissimi soldi ma davvero tantissimi possiamo diventare ricchi con questa coin ma possiamo anche perdere praticamente tutto quindi è importantissimo parlarne è importante parlarne perché ora se ne parla appunto in giro tanto e tanta gente potrebbe fare qualcosa senza sapere esattamente che cosa sta facendo e quindi non capendo che rischi sta correndo ne parliamo ovviamente dopo la sigla prima di cominciare come sempre ti chiedo di lasciare un bel like su questo video perché a te non costa niente ma a me mi aiutaresti davvero tanto a far crescere il canale e se non l'avessi già fatto ti chiedo anche di iscriverti al canale e premere sulla campanella così verrai notificato non appena pubblicherò un nuovo contenuto in questo video parleremo appunto di pepe pepe è una cripto una meme coin di cui si sta parlando davvero tanto in questi giorni intanto perché questa cripto è chiamata meme coin che cos'è una meme coin è praticamente una moneta un token che viene creato senza alcun senso cosa vuol dire senza alcun senso vuol dire che non ha una chain non ha un progetto non ha assolutamente niente questa coin è il nulla è come se fosse un sacco di patate neanche perché meno le patate ce le possiamo mangiare questa neanche quindi è proprio il niente quindi che scopo può avere una coin del genere beh appunto la speculazione ovvero avere un prezzo far sì che questo prezzo vada a salire ma salire tanto e poi dopo che questa coin è salita tanto si va a venderla si va a venderla e quindi si fa un profitto appunto il valore intrinseco di queste monete è nullo non c'è assolutamente niente non nella prima coin che vediamo un'altra classica è che ne so shiba inu shiba inu non niente di meno che proprio una coin come pepe solo che andava diciamo di moda un po di tempo fa ora se ne parla un po di meno ma il succo il discorso è lo stesso perché si parla tanto di pepe in questi giorni beh perché ha fatto il 400 per cento il 450 per cento insomma qualcosa del genere in 24 ore 400 per cento in 24 ore quindi facciamoci due conti mettiamo che ne avessimo comprato 1000 euro di pepe in un giorno abbiamo fatto 4000 euro di profitto 4000 euro di profitto in un giorno mettiamo che invece avessi comprato 10 mila euro di pepe avrei fatto 40 mila euro di profitto in un solo giorno poi pensate che roba enorme si può fare con queste mie coin qual è il problema il problema è che non si sa quando questa coin va a esplodere e quindi quando questa coin fa una crescita del genere la cosa rischiosa però è entrare dopo che esplosa questa coin ovvero fa il 400 per cento io dico o mio dio che cosa sta succedendo sto prendendo il carro compro pepe e poi pepe scende e io perdo perdo una marea di soldi per come può fare il 400 per cento in un giorno può fare magari il meno 200 per cento in 12 ore quindi bisogna fare molta attenzione a che cosa bisogna fare attenzione in primis alla fomo che cos'è la fomo è quella cosa che ci viene in testa quando pensiamo di aver perso un'occasione o peggio ancora che stiamo perdendo un'occasione quindi diciamo cavolo il treno sta passando e non ci sono sedito sopra devo lanciarmici ora bene no non è così ogni volta che una coin esplode dal nulla e noi non abbiamo messo di soldi ebbene non fare niente ne approfitto per ricordarti che questi non sono assolutamente consigli finanziari sono video a scopo di intrattenimento e semplicemente io dico i miei pareri e il mio parere è che sulle mie coin non bisogna mai 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 mettere dei soldi a meno di mettere quei soldi che non si è disposti a perdere perché il rischio è elevatissimo esattamente come è elevato giocare su quelle piattaforme ad alto rendimento e ad alto rischio queste coin sono la stessa identica cosa soprattutto se la coin è gesplosa se io avessi messo dei soldi su pepe mesi e mesi fa ora mi sarei fatto i soldoni è vero però piccolo problema non l'ho fatto e non l'ho fatto e quindi ciao come se avessi comprato bitcoin parecchi anni fa ora sarei miliardario ma non l'ho fatto non l'ho fatto quindi nuovo ciao c'è da fare una differenza però bitcoin ha un valore intrinseco a un fondamentale a un progetto queste coin non hanno nulla quindi sono solo coin speculative fate attenzione a comprare una coin del genere quando è ai massimi perché da un momento all'altro può crollare quando è che crolla quando la gente farà take profit quindi un sacco di gente ha comprato questa coin bene è cominciata a salire ok cosa succede che quando comincia a salire altra gente la vede salire e ne compra ancora e saliamo ancora la voce si sparge arriva altra gente la si compra ancora e sale ancora tutto questo continua fino a quando qualcuno non inizia a vendere quando qualcuno inizierà a vendere la coin comincerà a scendere la gente vedrà questa coin scendere e di conseguenza tutti cominceranno a vendere e quindi la coin andrà giù e se tu hai comprato questa moneta quando era alta indovina che succede che ci perdi quindi fai molta attenzione per farti capire molto bene questo concetto voglio che ci spostiamo al computer e facciamo un po di analisi tecnica sia su pepe sia su ad esempio shiba inu che è una coin appunto che gli somiglia proprio tanto perché più o meno la storia è quella quando si va a comprare una cripto bene fare due tipi di analisi analisi fondamentale e analisi tecnica analisi fondamentale su una mail coin non si può fare perché perché non esistono fondamenta quindi queste coin non hanno nessun valore intrinseco l'analisi fondamentale finisce qua a cosa serve questa coin a niente quanto vale questa coin niente è solo speculazione finisce qua l'unica cosa che si può fare è fare analisi tecnica andando a guardare i grafici quindi ora guarderemo il grafico di pepe e poi lo paragoneremo al grafico di shiba inu per capire che cosa potrebbe succedere a questa coin quindi seguimi al computer allora eccoci davanti al grafico di pepe questo è il grafico di un mese guardate bene questo grafico e analizziamolo molto bene come vedete pepe è stata molto stabile per tantissimo tempo poi c'è stato un piccolo pump niente di che per poi finire in questa cosa qua quindi in un pump pazzesco che appunto ha portato a quel 400 per cento eccetera in 24 ore che succede ora ora si è riscesa ma non vuol dire niente potrebbe benissimo essere che ora risale o magari riscende ancora un po comunque siamo su questi valori qua ora magari c'è qualcuno che appunto per fomo quindi per paura di perdersi l'occasione si va a compare pepe si va a compare pepe perché dice ok ha fatto il 400 per cento benissimo ma appena salita ora è la coin del momento si parla solo di sta pepe da tutte le parti e quindi andrà a salire ancora quindi un sacco di gente magari continuerà a compare questa coin per avere una speranza di farci tanti soldi cosa può succedere però può succedere che tutta sta gente che ha fatto acquisto qua comincia a vendere comincia a vendere perché comunque fai un profitto del 400 per cento e perché non vendere non vendi beh uno perché pensi che magari appunto sia ancora il trend del momento e quindi possa ancora salire o due perché comunque hai comprato non proprio i minimi quindi magari hai comprato per qua e fare un profitto del genere non ti interessa quindi la tieni con la speranza che salga ancora attenzione però perché io invece posso benissimo ragionare che ho comprato qua benissimo faccio un 300 per cento sti cavoli vendo e va bene così se la gente comincia a vendere ricordati questo grafico andrà in picchiata quindi lo vedremo ricrollare come fare per capire questo andiamo a vedere shiba inu guardiamo un pochino come è andata la storia di shiba inu shiba inu è stata su questi valori qua per parecchio questo è il grafico da quando esiste shiba inu ma è giusto per farti capire bene dopo di che è partito il pampone quindi shiba inu è diventata la cripto del momento non si parlava di altro se non di shiba inu quindi che succede guardate un po che succede questo che arriviamo qua sopra ha fatto una cosa incredibile chi ha comprato shiba qua è diventato ricco punto e basta ma non ha fatto qualche soldino è diventato ricco è diventato ricco da fare schifo ma qua è fortuna qua è fortuna perché chi l'ha comprata qua l'ha comprata con una speranza boh magari ha visto questo pump prima ha detto boh la ricompro perché magari risale o magari ci ha messo 10 euro ci metti quella cifra giusto per e beh ti becchi un pump del genere e sti cavoli il problema cos'è il problema è che quando si verifica questa roba qualcuno di nuovo parte la fomo ha paura di perdere il treno compra quindi magari compra qua e guardate che è successo dopo boom giù tutto giù tutto giù tutto giù tutto giù tutto fine di shiba inu quindi chi ha comprato qua e magari ci ha messo i soldi in una vita ci ha messo i risparmi ci ha messo i risparmi perché pensava di diventare miliardario si è ritrovato a zero ha perso tutto quindi perdi anche le mutande perché con un crollo del genere ora io non so dirti quanto sia in percentuale il crollo ma vuol dire perdere tutto appunto non andare a zero ma quasi vuol dire polverizzare tutti i tuoi risparmi una meme coin può fare questo una meme coin può fare un'impennata del genere e poi può crollare esattamente così quindi ora con pepe siamo messi in questa maniera è un po come se fossimo diciamo in questo punto qua con shiba inu quindi fai molta 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 attenzione questo non vuol dire che tu non debba scommettere vuoi metterci 10 euro vuoi metterne 50 vuoi metterne 100 metti che ti pare però metti i soldi che sei disposto a perdere perché può benissimo essere che adesso pepe sia al suo massimo storico e non andrà mai più più su di così può essere che crolli e tu i tuoi 100 euro i tuoi 50 euro li vai a perdere tutti quindi fai attenzione questo vale per pepe vale per shiba vale per tutte le meme coin per tutte quelle coin che non hanno un valore non hanno un progetto non hanno assolutamente nulla ma servono non solo per speculare queste coin fanno diventare ricche tantissime persone perché è inutile negarlo fanno diventare ricche tantissime persone ma fanno anche perdere tutto quanto ad altre tante persone state decidere che cosa fare state decidere quanto rischiare io da queste coin ci sto sempre a larga non ho mai comprato una meme coin se mi segui da un po sai benissimo che uso delle piattaforme molto 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 rischiose ma a mio parere è molto meglio usare quelle piattaforme che non andare a mettere dei soldi in una coin del genere soprattutto se ormai esplosa perché se ormai di qualcosa se ne sta parlando vuol dire che troppo tardi quindi se c'eri già dentro per puro caso buon per te sei stato fortunatissimo ti sei fatto i soldi ora sei ricco sono contento per te ma se ti stai avvicinando ora a una coin perché se ne sta parlando sei arrivato in ritardo sei arrivato in ritardo il treno lo hai perso e a parer mio stanne alla larga questo video è servito soprattutto per farti capire che cosa può fare una meme coin che cosa può fare nel bene quindi rendere ricche le persone che comprano prima che questo esploda e nel male ovvero approfittare delle persone che si fanno prendere della fomo ci mettono dei soldi dentro e un paio di giorni dopo hanno perso praticamente tutto per questo video io direi che tutto se ti è piaciuto ti chiedo di lasciare un bel like perché mi interessi davvero tantissimo a far crescere il canale e se non l'hai già fatto ti chiedo anche di iscriverti al canale e premere sulla campanella io ti ringrazio ancora e noi ci vediamo nel prossimo video ciao